Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati in questo nuovo video e oggi siamo qui con la mia rubrica in assoluto preferita gioielli pazzeschi, l'avete visto dal titolo, è finalmente iniziata l'estate, sono iniziati tutti i festival sono andata anche alla fiera di minerali di Monza, quindi ho fatto già un pochino di acquisti per i miei gioielli per i miei primi gioielli pazzeschi del 2024 e quindi oggi li vediamo tutti per chi non mi conosce io sono Sissi, visto che ci sono un po' di scritti nuovi, io sono Sissi e mi piace collezionare pietre però incastonate in gioielli quindi mi piace indossarle, mi piace portarle, mi piace scegliere in base al giorno, all'umore eccetera ok, quindi ho fatto come dicevo prima, ho fatto un pochino, già un pochino di primi acquisti per questo 2024 perché appunto quando arriva l'estate che iniziano tutti i festival ci sono le bancarelle ci sono tutti i miei artigiani, i miei spacciatori di pietre, ci sono tutti i miei artigiani fidati e qua abbiamo anche dei pezzi unici che poi vedremo e quindi se vi piacciono i gioielli, se vi piacciono le pietre e volete anche approfondire un po' di più sulle pietre perché io per ogni gioiello che vi farò vedere con pietra annessa, dico sempre un po' di fatti e di curiosità sulle pietre quindi è anche un video abbastanza interessante perciò prima di incominciare a farvi vedere tutti i miei gioiellini vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto uno per rimanere sempre aggiornati con i miei contenuti due perché ho l'obiettivo di arrivare ai 3000 iscritti il prima possibile io mi sono data la data del mio compleanno che è il 22 luglio quindi se mi volete fare un regalo di compleanno gratis iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate dei gioiellini che ho preso quale vi piace di più, se vi piacciono tutti come a me io non so più quale scegliere adesso qual è il mio preferito, forse ce l'ho un preferito e quindi iniziamo subito iniziamo subito e io voglio iniziare col botto voglio iniziare col botto e voglio iniziare appunto con un venditore che conosco da anni ormai prima lo vedevo appunto ai festival che vado io d'estate dove ci sono i concerti ci sono le bancarelle di artigiani adesso hanno aperto un negozio e si sono un pochino alzati di categoria hanno aperto un negozio e lo trovo con mia grande gioia l'ho trovato sia alla fiera di Novegro la fiera dei minerali di Novegro sia adesso alla fiera dei minerali di Monza che sono le mie due fiere dei minerali più vicine allora stiamo parlando di Gcube io qua sotto vi lascio il loro riferimento il loro insta così potete andare a seguirli vedete dove è il negozio se siete della zona perché veramente io questo ragazzo lo conosco ormai da tantissimi anni e so che ha gioielli di qualità c'è una ricerca delle pietre c'è una selezione di dietro e quindi mi affido cioè mi affido a lui molto molto volentieri allora appunto partiamo col botto e qualcuno che ha l'occhio lungo perché io ho seminato un po' di indizi su Instagram qualcuno che ha l'occhio lungo ha già visto questo anello nel reel, nello short delle unghie ok perché quando ho fatto il video dove vi mostro appunto le unghie di giugno avevo indosso questo anello e stiamo parlando di questo bellissimo anello in argento con un opale credo che sia opale etiope se non ho capito male ed è fantastico poi rimanete ovviamente come al solito rimanete fino alla fine perché alla fine faccio tutta la carrellata dei gioielli close up ve li faccio vedere tutti indossati bene da vicino e quindi rimanete fino con me fino alla fine questo è un anello bellissimo con appunto con opale sto cercando di mettervelo a fuoco per farvi vedere cioè questo brilla tantissimo sembra una magia davvero sembra una magia sembra uscito da una fiaba cioè adesso che sto leggendo fantasy mi fa sognare veramente questa pietra è fantastico vi leggo qualche qualche curiosità sull'opale allora l'opale questo qui che è considerato opale bianco perché è comunque su base bianca lattiginosa va a lavorare sul settimo chakra quindi siamo in un chakra alto il chakra della corona io oggi comunque tutti i chakra alti come al solito sono sempre nella mia testa piuttosto che nel corpo ho esordito con i miei come si dice buoni propositi del 2024 dicendo voglio vivere più nel corpo che nella testa tutte pietre dei chakra terzo occhio corona comunque tutti nella mia testa però cioè come si fa a resistere ragazzi allora quindi abbiamo detto va a lavorare sul settimo chakra che è il chakra della corona allora l'opale parlando di elementi perché tutte le pietre sono associate dagli elementi parlando di elementi l'opale racchiude il potere di tutti gli elementi quindi abbiamo qua dentro in questa pietra sia aria terra fuoco e acqua allora i romani lo adoravano come simbolo di speranza e purezza l'opale ispira gioia di vivere e stimola il desiderio di cambiamento ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno favorisce l'ottimismo e la sessualità ne abbiamo bisogno assolutamente sì dona chiarezza interiore e anche questo tutte cose di cui comunque abbiamo bisogno quindi questo è il primo pezzo appunto rimanete fino alla fine che se riesco a fare delle riprese migliori lo vedete anche meglio comunque ha un bel anellino d'argento marchiato 925 ve lo faccio vedere anche da così ok con questa pietra guardate che bello che è anche il dettaglio dell'anello con questo bellissimo bellissimo opale io come al solito vado sempre su pietre che sverluccicano ok poi 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 adesso il prossimo è un regalo è un regalo del camera dead però devo parlare piano ok devo parlare piano perché non è mio è per mia mamma per i 40 anni di matrimonio quindi gliel'ha regalato il camera dead sempre da loro ok ed è pazzesco ragazzi cioè qua siamo gioelleria allora questo è un solitario di acqua marina montato su argento ok quindi questo cioè mia mamma è di là che sta facendo il pisolino però parlo piano perché non voglio farmi scoprire perché glielo sto tenendo nascosto io ok spero che mi sentiate non voglio mettere i sottotitoli comunque questo è un solitario di acqua marina fantastico cioè guardate che bella la pietra che è come luccica è tutto sfaccettato anche l'opale aveva un taglio sfaccettato ma questo è veramente cioè è fantastico ok quindi per i 40 anni di matrimonio dei miei genitori mio papà gli regalerà questo il 23 di giugno mi pare sì 23 di giugno ok questo è quindi un bellissimo anellino in argento solitario ovviamente qua siamo appunto ad un livello anche l'opale è una pietra preziosa perché comunque l'opale è prezioso però qui siamo ad un livello ancora più alto ok è veramente fantastico queste pietre sono state scelte e selezionate appunto da questo ragazzo che è bravissimo fantastico e adesso vi dico appunto qualche fatto sull'acqua marina anche l'acqua marina va a lavorare sul quinto e il settimo chakra quindi il settimo chakra abbiamo visto che è quello della corona il quinto è quello della gola l'elemento ovviamente è acqua ed è la pietra di acquario e gemelli infatti mia mamma è acquario e la mia amica a cui piace tanto l'acqua marina è gemelli quindi siamo in tema simboleggia l'amore felice giusto miglior regalo per la sposa per amore e felicità nel matrimonio ottimo è pietra del qui e ora ottima per meditare favorisce l'introspezione beh che dire ve li rifaccio vedere tutti e due vicini ok il mio e questi sono i regali del camera dead per le sue donne che belli bellissimi tutte e due due stili completamente differenti uno più classico l'altro questo ovviamente più classico questo un po' più etnico più sognante più fiaba più fantasy ok bellissimi fantastici sempre da gcube l'ultima cosa che ho preso ultima ma non ultima per importanza ho preso questo ciondolino adesso lo vedete che l'ho messo in questa collanina ma giusto per farvelo vedere meglio per non tenerlo in mano così ho preso questo ciondolino che è sempre un ciondolino d'argento e abbiamo tre pietre qua abbiamo la pietra di luna e l'opale ok io adesso questo è bellissimo anche in questa collanina devo dirvi la verità però io sapete che cosa vorrei fare vorrei metterlo qua dentro nel girocollo questo qui è il girocollo d'argento che mi ha regalato l'anno scorso il camera dead preso in gioielleria al mare vi ricordate dai vlog del mare che l'avevo preso l'anno scorso questo snake in argento e io vorrei appunto metterglielo dentro e appunto perché secondo me ci sta molto bene ok e l'effetto dovrebbe essere appunto se sta dritto stai dritto l'effetto dovrebbe essere appunto questo ok quindi abbiamo una pietra di luna e labradorite bianca ok e l'opale quindi questo è sempre un opalino anche se di qualità non è bello come quello dell'anello però è sempre un opale quello sopra e poi le due pietre sotto quella in centro e la goccia sotto sono appunto labradorite bianca detta anche moonstone e della moonstone della labradorite bianca ne abbiamo già parlato un milione di volte perché la appunto la labradorite è la mia pietra preferita tra le pietre non preziose e vedete sempre che labradorescenza che ha questa iridescenza azzurra ok che praticamente ce l'ha quando la pietra cattura la luce è veramente cioè a me mi fa impazzire io secondo me in un'altra vita ero una gazaladra perché io vado dove c'è appunto il cerco sempre questa cosa il luccichino l'iridescenza cioè proprio è magico è tutto magico ok quindi labradorite bianca detta anche moonstone va a lavorare appunto sul sesto e il settimo chakra qua siamo comunque chakra in alto il sesto chakra il terzo occhio il settimo chakra è sopra quello della corona utilizzata per lavori spirituali nelle vite per le vite passate protettiva respinge attacchi psichici e energie negative lontano dall'aura lontano dalla mia aura tutte le tutte le energie negative ok cristallo legato all'idea del femminismo divino il potere materno dell'universo quindi è una pietra molto femminile la pietra appunto la labradorite bianca nell'antica Roma si diceva proteggesse i viaggiatori antico segno tradizionale di amore eterno scaccia la rabbia dalle relazioni e aiuta ad accettare l'amore degli altri anche questo si presume che prima o poi ci servirà e quindi io appunto la vorrei provare a mettere appunto così magari quando vi faccio il close up alla fine provo a metterla dentro e vediamo come viene fatemi sapere anche voi se faccio una cavolata oppure no noi l'abbiamo alla fiera dei minerali l'ho appunto l'ho comprato specificatamente l'abbiamo provato abbiamo provato ad infilarla non l'ho indossata però abbiamo provato ad infilarla dentro perché appunto l'intenzione era quella era prendere un ciondolino abbastanza fine ma molto d'impatto appunto per metterla qua dentro ok non so se però la utilizzerò per andare al mare forse per andare al mare la toglierò perché l'opale ok l'opale ho letto che deve stare lontano da fonti di calore essendo una pietra a base d'acqua praticamente e quindi non lo so forse portarlo al mare l'opale questo opalino credo che magari si rovini quindi col sole il calore così non lo so però vedremo poi andiamo avanti abbiamo finito con i ragazzi appunto di gcube e vi lascio appunto qua sotto i loro social andateli a seguire e veramente se vi capita di trovarli nelle vicinanze non posso che raccomandarveli poi andiamo avanti e andiamo avanti con un pezzo unico un pezzo unico ormai questo è il terzo anno che io incontro questo questo artigiano ok è un signore messicano è un signore messicano un artigiano un artista praticamente e lui fa i suoi gioielli cioè lavora al metallo e questo anello ok questo anello è fatto interamente da lui tutto proprio non ha incastonato per dire solo la pietra e il casting era già fatto ha fatto tutto lui questo è un suo design la pietra è una bellissima sodalite adesso si vede un po' di riflesso della luce questa è una bellissima sodalite e l'anno scorso avevo preso l'anello con lo continuo a dire smeraldo c'è in testa smeraldo chissà se deve arrivare uno smeraldo nella mia vita continuo a dire smeraldo in realtà è turchese l'anno scorso avevo preso da lui appunto l'anello con il turchese e l'anno prima avevo preso da lui un anello con un opale in cantera che è praticamente un opale che cresce dentro la rodocrosite mi pare che si chiami con la pietra rosa tipico è una è una pietra appunto del messico mentre questa è una bellissima sodalite molto particolare perché io di solito la sodalite l'ho sempre vista di un blu più chiaro questo è veramente un blu scuro che sembra virare un po' tra il grigio e il viola per certi versi quindi quando si vede sotto la luce sembra quasi un po' che tira verso il violetto mentre quando la si guarda all'ombra tira verso il blu il grigio mentre io tutte le sodaliti chiamiamole dozzinali ok ma mettiamolo tra virgolette tutte le sodaliti dozzinali che ho visto sono sempre state molto di un blu cina ok blu e bianco che sembrano veramente tipo le porcellane cinesi ok mentre questo è veramente di un colore pazzesco sembra ricorda o un mare in tempesta o un temporale che infatti ero con la mia amica quando ho scelto questo anello e lei me l'ha detto mi ha detto sembra un mare in tempesta ed è veramente fantastico anche qui non riesco a metterlo a fuoco benissimo quindi rimanete fino alla fine per vedere il close up se riesco a fare delle riprese migliori ma veramente è pazzesco quindi parliamo della sodalite la sodalite va ad agire sempre sul quinto il sesto chakra il quinto chakra è quello della gola questa pietra è molto importante per la gola e il sesto chakra è appunto il terzo occhio l'elemento è quello dell'acqua e promuove la comunicazione sia verso l'esterno sia con noi stessi appunto come dicevo prima questa pietra è una pietra che lavora tanto sulla gola e lavora sull'espressione e è una pietra che a me serve tanto soprattutto facendo creando contenuti ho bisogno di essere attiva nel parlare nell'esprimermi e quindi devo essere chiara comunicativa e quindi lavorare appunto sul chakra della gola per me è fondamentale per quello che faccio ok quindi spero che mi aiuti con la parlantina che già ho però magari ad esprimermi anche meglio perché comunque non è facile parlare davanti a una telecamera ok non è facile e quindi promuove appunto la comunicazione sia verso l'esterno quindi il fatto di esprimersi comunicare sia con noi stessi quindi la comunicazione con il nostro interno l'introspezione bilancia lo ying e lo yang e simboleggia la notte stellata o la profondità del mare appunto ne abbiamo parlato prima come il lapislazzuli questa è una è una caratteristica sia della sodalite che della lapislazzuli che sono due pietre abbastanza simili che condividono anche certi certi elementi chimici e fatto ed è stata rinvenuta con l'eruzione del vesuvio nella distruzione di Pompei la sodalite eccola qua e questo è posso dire che è un pezzo unico non ce l'ha nessuno questo anello ce l'ho solo io per questo a me piace appunto fare shopping di gioielli piuttosto che nei centri commerciali nei negozi di catene eccetera preferisco andare dagli artigiani che mi danno dei pezzi unici ok che non ha nessuno quindi io prevalentemente poi vabbè quando quando c'è da prendere l'orecchino il gioiellino in acciaio ci vado vedete che anche quando vado al mare sono andata da Marlou sono andata da quell'altro la cos'era hashtag hashtag brand però quando diciamo che quando devo spendere i soldi seri ok i soldi con soldi seri intendo sopra i 40 euro ok di bigiotteria e gioielli sopra i 40 euro preferisco spenderli per una cosa che ha un valore ok ha un valore perché comunque è un pezzo unico la pietra è vera il metallo è argento e quindi cioè preferisco fare questo tipo di investimento ok quindi eccola qui la sodalite poi andiamo avanti e andiamo avanti io me li sono me li sono già indossati allora sempre al festival ho preso questi orecchini e gli ho no questi li ho presi alla fiera dei minerali non al festival li ho presi alla fiera dei minerali su un banchetto di cui non ho chiesto appunto informazioni anche per questo il signore quello lì messicano non ha social non ha nulla quindi lo dovete beccare lo dovete beccare quando agli eventi ok quindi non si può comprare appunto online questo non ho chiesto riferimenti ok ho preso questi due orecchini questo è in ottone metallo e ottone e questo è metallo bianco che quindi è una lega di metalli bagnato in argento non dovrebbe scurirsi più di troppo vediamo io ho altre cose in metallo bianco collezionate durante gli anni e non non ho riscontrato particolari problemi ecco ve li faccio vedere vediamo di metterli magari appunto in un modo intelligente per farveli vedere io li ho indossati perché raga questa chiusura è è una cosa cioè mirare il buco mirare il buco per chiuderli non è semplice ok quindi me li sono messi prima e adesso devo decidere quali voglio tenere indosso e quali voglio portare al mare perché io vorrei portare appunto questi orecchini al mare e credo che al mare porterò appunto questi qua di ottone dorati chiamiamoli dorati ok penso che siano un po' più indicati per il mare però anche questi qua argentati sono molto sono lo stesso modello li ho presi sia dorati che argentati perché mi piacevano tantissimo ok e eccoli qui ve li faccio vedere da vicino sono appunto fatti così sono fatti così appunto peccato perché veramente da da indossare sono un incubo perché veramente ci perdete le ore a far entrare il il pirolino nel buco però sono veramente molto molto belli guardate che belli che sono cioè mi ha colpito subito la mi ha colpito subito la forma e poi me li ha venduti veramente a 10 euro la coppia e quindi ho detto no li prendo assolutamente tutti e due perché mi piacciono tantissimo e quindi questi sono gli orecchini e li vedete anche indossati spero che spero che renda un po' l'idea che si vedano bene poi dopo vi faccio il appunto il close up allora siamo arrivati già alla fine perché comunque sono i primi gioielli del 2024 dell'estate 2024 devo ancora andare al mare devo ancora andare a un paio di festival almeno quindi abbiamo solo appena incominciato ho comprato questo ciondolo che è un pochino un azzardo se ve lo posso dire io ho un po' di paura a indossarlo questo ciondolo è bellissimo è sempre cioè il filo il filo conduttore tra tutti questi gioielli che ho preso è un po' la magia ok infatti vorrei scrivere anche nel titolo tipo gioielli magici perché il filo conduttore di tutti questi gioielli è un po' appunto quello che mi che mi fa sentire quello che mi fanno sentire è un po' la magia e questo mi ha attirato subito perché io poi sono così ok guardate che bello che è io sono così per tutti per tutti i pezzi che vi ho fatto vedere sono stati la prima cosa che io ho visto sulla bancarella sul banco e sono stati la prima cosa che mi ha attirato quindi anche quando voi mi chiedete sì sì ma che pietra devo comprare da cosa devo iniziare è la pietra che sceglie voi non siete voi che scegliete lei quindi appena voi vedete quello che vi attira quello che l'occhio continua a guardare è quello che dovete comprare assolutamente e quindi questo questo ciondolo adesso vabbè io l'ho messo in questa collana però come come per questo ok come per questo qui adesso ci sono attaccate gli orecchi come per questo qui ho comprato il ciondolo singolo questo ciondolo mi ha attirato al primo sguardo è però io dico che è un azzardo perché sentite momento sm questo è una sorta di chiamangeli anche se non è propriamente rotondo ok e il chiamangeli di solito lo indossano le donne incinta ok è andato di moda così adesso sempre più donne incinte indossano il chiamangeli perché a quanto pare il suono appunto il tintinio del campanello che c'è dentro del campanellino si dice che tranquillizzi il bambino culli il bambino eccetera ok a me è piaciuto subito l'ho preso io non sono incinta però questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché mi è successo nella mia vita che tante persone pensassero che io fossi incinta quando non è il caso ok perché per la mia conformazione corporea perché tendo a cioè è una cosa genetica ce l'ha anche mia mamma ce l'ha anche mia nonna l'ho ereditata pure io perché come al solito io dico che eredito sempre le cose brutte non le cose belle il peggio dai due genitori ok e quindi ho ereditato questa pancia geneticamente questa pancia che sembra da da incinta insomma e quindi varie volte nella mia vita mi è capitato persone che credevano che fossi incinta quindi aspetti ah congratulazioni vedo che aspetti no cioè una volta detto sì il pullman aspetto e quindi mettermi addosso una cosa del genere potrebbe dare un una falsa informazione ancora peggio di di quanto le persone possono pensare ok però mi piaceva tantissimo non so se avrò mai il coraggio di indossarlo fuori ok in pubblico anche se come vedete non ha proprio un cioè è un po' ovale ok è schiacciato è ovale non ha la tipica forma del del chiamangeli rotondo campanellino ok quindi potrebbe anche essere confuso per un ciondolo appunto normale io adesso ve lo faccio vedere indossato adesso questo in teoria forse andrebbe portato appunto magari se gioco sulla lunghezza perché adesso io l'ho messo in questa collana qui perché è l'unica collana un po' lunga che ho di ottone e quindi mi arriva qui sul seno quindi se gioco la lunghezza perché se gioco con la lunghezza magari fa appunto un altro effetto perché appunto i chiamangeli di solito stanno un po' più giù vedete vedete qua questo pancino da quarto mese ok è la mia panza ok e quindi niente quindi io ho paura che indossarlo in pubblico ok anche se mi piace tantissimo e non ho potuto resistere a comprarlo ora questo sciondolo cioè voi mi scriverete adesso cioè spero che nei commenti siate clementi ok sicuramente mi scriverete sì sì non ti preoccupare ma che te ne frega mandali tutti a fanculo esatto allora questo è tutto in ottone con il lapis da tutte e due le parti con una pietrina di lapislazzoli appunto da entrambe le parti è un ottone un po' potrebbe anche essere lucidato sto pensando sul da farsi se lasciarlo così un po' agé ok un po' invecchiato oppure lucidarlo con l'argentillo con il sidol ok e caratteristica si apre in teoria si apre e voi potete mettere dentro quello che volete se vi dà fastidio il campanellino che è questo è bellissimo smr ok è magico anche questo è magico se vi dà fastidio a un certo punto il campanellino potete metterci dentro una pietra che volete perché me l'ha spiegato il ragazzo perché io quando sono andata là che l'ho scelto gliel'ho detto ho detto mamma mia adesso io gli ho detto ma lo possono mettere solo le donne incinte cioè gli ho mostrato un po' la mia preoccupazione gli ho detto non è che adesso io mi metto questa cosa tutti pensano che sono incinta peggio peggio di quello che già pensano ok e lui mi fa guarda adesso è diventato di moda che le donne incinte si mettano il chiamangeli però in realtà se lo possono mettere tutti ovviamente che cosa mi poteva dire ero lì per comprarlo e fa comunque certe persone tolgono il campanellino e dentro si può si può anche lasciare vuoto volendo si può lasciare vuoto oppure si può mettere dentro la pietra che volete voi una pietra che volete tenere vicino oppure anche si può mettere un pezzettino anche di lana come si chiama lana cotta lana grezza feltro con le goccine di olio essenziale e fare tipo aromaterapia quindi abbiamo un ciondolo con più utilizzi veramente molto 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 bello non ho potuto resistere a prenderlo e mi piace tantissimo nonostante potrebbe essere un disastro ok però mi piace veramente tanto vi dico due cose appunto sul lapislazzolo e poi chiudiamo perché è già tardi allora il lapislazzolo anche lui fa parte di uno dei chakra un po' alti quindi il quinto chakra gola ok l'elemento è sempre l'acqua ed è stata usata in egitto nei rituali ed è una delle pietre più antiche mai rinvenute nel buddismo viene considerata uno dei sette tesori mentre per i romani aveva proprietà afrodisiache wow detta pietra del cielo promuove saggezza e onestà e stimola l'intuizione la differenza tra lapislazzoli e sodalite quella la differenza più lampante è che il lapislazzoli ha delle qua ovviamente non si vede perché è molto molto piccolo è molto molto piccola la pietra però il lapislazzoli ha delle inclusioni di questo blu e ha dentro la pirite praticamente quelle pagliuzze dorate che vedete dentro al lapislazzoli quelle pirite mentre la sodalite non ce li ha ok anche la sodalite un po' più pura che non ha il bianco che ha poco bianco non ha assolutamente la pirite ok un po' più un po' più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono accaldata raga perché sono chiusa dentro, perché fuori come al solito giardini, asfalto, chi più ne ha più ne metta. Quindi abbiamo finito con questa prima parte di gioielli pazzeschi per il 2024. Scrivetemi nei commenti se vi piacciono, secondo me sono veramente tutti bellissimi, sono veramente tutti delle chicche pazzesche. Quindi fatemi sentire nei commenti, lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Uno per rimanere aggiornati con tutti i miei contenuti, due per aiutarmi a crescere con il canale. Io vi bacio e noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti. Ciao!